Tale e quale show 13, i concorrenti, come sono stati scelti da Carlo Conti? Tale e quale show sta per partire con la sua tredicesima edizione. Ormai il cast è al completo e i personaggi, che sono stati scelti per esibirsi interpretando cantanti noti, hanno rilasciato delle interviste. In particolare, hanno rivelato in che modo sono riusciti a conquistare Carlo Conti e gli autori, entrando a far parte del cast ufficiale di questa edizione. Tale e quale show 13, le rivelazioni dei concorrenti, ecco come hanno fatto ad entrare nel cast. Tale e quale show 13 inizierà nel corso della stagione autunnale, come ogni anno. Il cast ormai è completo ed è stato ufficializzato. Intervistati da sorrisi, i concorrenti hanno tolto le curiosità dei telespettatori, spiegando in che modo sono riusciti a conquistare Carlo Conti e gli autori del programma, ottenendo così un posto nel cast. Lorenzo Licitra, vincitore dell'undicesima edizione di Decimo Factor e concorrente confermato, ha rivelato di aver colpito Conti scegliendo brani di autori che ama e conosce bene, come i Queen. Nel programma, il giudice che teme di più è Loretta Goggi. Ginevra Lamborghini, volto della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha invece rivelato che il suo trucco per convincere Conti è stata la sua versatilità e la sua grande energia. Lei, a differenza di Licitra, teme di più Cristiano Malgioglio ed ha dichiarato, di non voler interpretare voci maschili, che abbiano voci troppo potenti. Luca Gaudiano, che partecipò al Festival di Sanremo 2021, ha rivelato che ha convinto gli autori del programma, grazie alla sua passione per le imitazioni. Impegnandosi nel provino, ritiene di aver ottenuto così, il posto che voleva nel programma. Anche il celebre volto degli anni Ottanta, Shalpy, che sarà nel cast, ha svelato il suo segreto, dicendo però che Conti cerca di convincerlo, a partecipare a tale e quale show dalla prima edizione. Perciò, ora che si è convinto ed ha fatto il provino, ha ottenuto la sua possibilità di entrare nel programma. Tale e quale show 13, anche Alex Belli, Pamela Prati e Maria Teresa Ruta nel cast. A tale e quale show 13 sono stati scelti anche altri ex volti del grande fratello, come Alex Belli, Pamela Prati e Maria Teresa Ruta. Belli ha dichiarato di aver convinto Carlo Conti, mostrando la sua attitudine da musicista, che ha in sé da sempre. Maria Teresa Ruta, invece, ha ironizzato dicendo di aver conquistato Conti per sfinimento, in quanto fa il provino da tantissimi anni. Ritiene, infatti, di non essere affatto brava ad imitare, ma spera che i coach facciano un buon lavoro con lei. Infine, Pamela Prati ha detto la sua, ritenendo di essere stata scelta per la sua storia artistica, e per la sua caparbietà. Tra i membri del cast confermato c'è anche Joe Squillo, che ha dichiarato di essere stata scelta, avendo corrotto Carlo Conti con il suo tiramisù vegano. Che cosa ne pensate? Vi piace questo cast e che idea avete sulle dichiarazioni, che sono state fatte dai concorrenti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!